prima di tutto quale broker usate non ha un effetto su come investite cioè se voi comprate i tf o se voi comprate le azioni di alfabet che cacchio ne so le comprate uguali su interactive brokers o su altri brokers cambiano alcune cose in realtà la cosa che dovrebbe preoccuparvi di più innanzitutto cambiano le fees quindi i costi i costi per comprare un'azione un etf un paniere di azioni o quello che è interactive brokers è quello che mi risulta abbia i costi in assoluto più bassi si parla di centesimi ok il problema di questo discorso è che come al solito le persone si focalizzano sui centesimi e non capiscono il discorso più ampio per esempio si vedono no su youtube dei video di persone che anche in america adesso c'è questa roba qua di wibble robin hood che sono due cose diverse ma comunque cioè ragazzi occhio che piattaforme usate perché non volete che sparisca spariscono con i vostri soldi primo criterio quello non quale costa meno ci sono tutte le pietre non ne voglio neanche nominare ma c'è occhio dove diavolo mettete i vostri soldi specialmente perché quei soldi dovrebbero e cioè sono la vostra corrente presente corrente o futura gallina dalle uova d'oro c'è toccatemi tutti ma non il patrimonio di borsa che è quello che mi dà da mangiare magari con dei dividendi o con l'apprezzamento ogni anno vendo delle azioni vivo con quello a livello di patrimonio no cioè è la cosa più importante quindi occhio a dove diavolo mettete questi soldi ora youtube è pieno di diciamo ragazzini di ditti anche motivati che 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 giustamente però che non penso abbiano un patrimonio magari degno di nota e quindi ti dicono no aperto di qua ho aperto di la nomi io ho sentito alcuni nomi di piattaforme sono piattaformuncole occhio quando avete centinaia di migliaia o milioni decine di milioni di euro da far girare cioè io non metterei 500 300 700 mila euro milioni 10 milioni o quello che è su una cosa che non siano broker enormi che si poggiano su banche stabili che siano certificati ufficiali in giro da tanto tempo e siano grossi soprattutto siano delle grosse realtà non io ma c'è un bro mandetto metti soldi che c'è chi sono queste perché ah no la piattaforma mi hanno dato un'azione gratis quindi ho messo i soldi lì ma noi stiamo scherzando ma l'azione gratis ma tu sei una testa di in america c'è una cacchio di ah no ma è bella perché non ha robin non ha costi in realtà ovviamente i costi ci sono ma non ha così ma cos'è cioè che piatta si poggia su cosa e potrebbero chiudere domande da quanti anni servono il mercato perché la longevità ragazzi è una cosa da tenere in considerazione stessa cosa si può anche investire oltre a broker tramite banca potete comprare le azioni parimenti sulla banca anche lì di solito costano un po di più non è sbagliato è una cosa che io personalmente faccio a livello di diversificazione dire me ne sbatto se costano un po di più con la banca ma ho anche parte del patrimonio di azioni che risiede in in delle banche stabili è vero ho pagato lo zero punto qualcosa di più ma sti cazzi non potete avere bene da quanti soldi avete ripeto però in un'ottica poi di patrimonializzazione futura non volete avere tutto su un unico broker a mio parere non ha senso cioè voi ditemi qual è il vantaggio non volete avere tutto nella stessa banca non volete a un certo punto avere tutto sotto lo vostro nome sotto la stessa holding finanziaria magari volete averne due tre quattro cinque vari paesi poi lì si parla di non è questo il video ma quale broker usare dipende anche da questi discorsi qua non l'app carina perché le persone scelgono le piattaforme così come le tessere le banche non quelle che ti danno la carta metal rossa mamma mia che becce ma tu perché hai scelto sta banca ma la carta mi piace ora ripeto finché fai girare pochi soldi tra virgolette va bene ma fate un piano di accumulo serio mettete un po di soldini magari avete un capital gain magari guadagnate bene investito ogni mese io investo una importante adesso sono solo sull'investimento di borsa sto andando oltre il milione all'anno esclusi savings eccetera solo di cose investite come come big luca big luca fisico io tramite holding finanziari ma non come big luca international quella è l'entità operativa quindi sto scalando i miei investimenti investo una cifra significativa cioè non è che la mettiamo su delle piattaforme perché sono belle alcune non sono neanche belle interactive brokers bello non è a volte si incarta anche però ha una solidità di un certo di un certo di un certo tipo investite anche tramite banca non scegliete un broker o un qualcosa solo perché ha le fee più basse o perché è più bello perché aveva detto il vostro amico squadrinato ve ne prego perché perché poi succedono i casini non saltate su piattaforme o app o mode del momento particolarmente trendy perché il trend è seguito dai ragazzini impazziti in america i ragazzini che compravano le azioni su robin hood col fractional share hanno combinato un casino c'è chi dice che sono responsabili loro della bolla per chi crede che ci sia una bolla nel mercato perché un branco di milioni di ragazzini si iscrivono su robin hood cominciano loro per loro è un gioco no c'è negli soldini addirittura si sono gli stimulus checks o i soldi della nonna comprano e vendono azioni senza capire cosa stanno facendo tanto non è che lo cioè e creano dei casini per chi sta accumulando dei soldi sceglietevi dei broker delle banche serie ok a un certo punto dovrete anche ripeto diversificare un solo broker non va bene quando diversificare una domanda che dipende da quanto guadagnate quanto patrimonio avete però come big luca scegli dove investire in borsa siccome se io compro un etf che traccia l'andamento delle senti 500 quello è mettiamo che compro lo spy o il v o o il v t s a x che mi c'è al fondo va dietro anche lui al s&p che io lo compro tramite banca o che lo compro tramite un broker sempre la stessa cosa sto comprando d'accordo le ci sono fi più bassi ci sono più alta anche il discorso delle fees ragazzi voi siete stati un attimo presi per i fondelli da alcuni libri alcuni dei quali o anche lì libri di tony robbins che vi c'è presi per i fondelli cosa vuol dire è verissimo che oltre a un certo punto le fees sono rilevanti certo pagare il 3 per cento pagare lo 0,5 certo che ti erode un patrimonio e va bene voi non volete pagare delle fee inutili o eccessive o troppe o delle fee nascoste non volete farvi fregare con i costi nascosti ma certamente il soprattutto per per chi in realtà ha pochi soldi e sta iniziando voi intanto investite che pagate lo 0.3 o 0.2 non ve ne deve importare intanto mettete dei fottutissimi soldi nell'investimento ogni volta che potete mese dopo mese o quando li avete ce li mettete un bel piano di accumulo sui tf series stabili a lungo termine sull'S&P sul Nasdaq fate quel diavolo che volete senza guardare per forza però qui mi danno delle condizioni migliori sì ma che piattaforma è che app è è l'app del momento in italia ce n'è una ogni ogni piesso spinto in america sono due balle ma se ti iscrivi adesso ma mi danno 250 dollari da investire me li regalano ma ti sei chiesto il perché perché lo fanno potrebbe non essere una tru però perché ne vale la pena dove sono i tuoi soldi che sicurezza ci sono il broker di che paese è gente che mette soldi su broker ciprioti cioè c'era i miei soldi a cipro ah ma mi hanno ma sei stupido cioè non è e sentono furbi poi sto pagando meno di te è bravo certo di altri dieci anni che c'è più soldi quindi ragazzi questi sono i principi questi sono i nomi che vi posso fare fidelity char schwab interactive brokers famosissimo swissquat